Gentili telespettatori, buona giornata. Via libera al ponte sullo stretto, c'è il sì. Salvini dice sarà un'opera green, quindi c'è il via libera nel consiglio dei ministri al ponte sullo stretto di Messina. Un ponte sospeso di un'unica campata di 3,2 chilometri. La campata centrale è 3,2 chilometri. La campata totale è 3,6 chilometri totali. Quindi non ci sono pilastri in mezzo al mare. Le fondamenta sono sulla terraferma. L'altezza delle torri saranno di 382,6 metri. L'altezza delle due torri principali che affonderanno i pilastri nella terraferma, non in mezzo al mare. Quindi ci saranno sei corsie stradali, tre in un senso e tre nell'altro. e poi ci saranno due binari, perché ci sarà anche il piano con il treno. Passeranno circa 6.000 veicoli l'ora e 200 treni al giorno. Un'opera gigantesca. Immaginatevi solo le torri, 382 metri. È come un palazzo, un grattacielo di 120 piani. Cioè una torre è come fosse un grattacielo di 120 o qualcosa di più di 120 piani da tre metri, più o meno. Così il ponte sullo stretto tiene il via libera per decreto. Lo ha approvato proprio ieri notte il Consiglio dei Ministri. Salvo intesi, il che significa che non è tutto stato ancora perfezionato. Cioè c'è l'ok ma bisogna mettere a punto delle cose. Ma comunque approvato. C'è il via libera del governo al ponte sullo stretto. Quando l'hanno approvato alle 19 e 10 di ieri, come specifica una nota del Ministero dei Trasporti per sottolineare il dettaglio che segna la svolta. Il governo ha fatto partire la procedura. Anche se il testo definitivo non è stato ancora diffuso. Sarà disponibile a breve perché sono necessari gli ultimi approfondamenti tecnici. Salvini utilizza toni epocali. Dice una giornata storica. E ha ragione. Dopo 50 anni di chiacchiere, questo Consiglio dei Ministri approva il ponte accampata unica che unisce la Sicilia, l'Italia e il resto d'Europa. L'opera più green del mondo, più verde del mondo, la definisce il vicepremier Salvini, ridurrà l'inquinamento da anidride carbonica. Anche dice sarà un'attrazione turistica perché sarà il ponte strallato, significa sostenuto da cavi, più lungo al mondo, circa 3,2 chilometri tra Villa San Giovanni e Messina. Pertanto il Consiglio dei Ministri fa rinascere la società Ponte sullo Stretto. Sapete quando fu costituita la società Ponte sullo Stretto? Prima che io nascessi. Si parla del 1971. C'erano ancora le fotografie in bianco e nero, principalmente. Pensate un po'. Non esisteva il computer, o meno esistevano i computer militari, ma ancora non era arrivato il personal computer. Non c'erano i cellulari, assolutamente. Quindi la società Ponte sullo Stretto è di oltre 50 anni fa, quando il mondo era diverso. In questa rinascita della società Ponte sullo Stretto partecipano rete ferroviarie italiane SPA, ANAS, SPA, la regione Sicilia, la regione Calabria e al 51% il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica operativa sull'opera. In passato l'azionista di riferimento era ANAS. Giusto ieri mattina il ministro ha incontrato i presidenti di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto o Chiuto. Salvini ha parlato anche con la Banca Europea di Investimento, il BEI, con la vicepresidente Gelsomina Vigliotti. L'istituto è disponibile a valutare una sua partecipazione, fermi restando la compatibilità ambientale della grande opera. Quindi anche il BEI, la Banca Europea di Investimento potrebbe partecipare a questa opera. Da sottolineare il fatto che sempre la BEI sarà parte del piano Invest EU, che metterà a disposizione 3,4 miliardi di euro per il rinnovo della tratta ferroviaria Palermo-Catania. Così Salvini dice che è significativo per l'occupazione perché il ponte darà lavoro a migliaia di persone per diversi anni. Su quanti anni, dice, i tempi di realizzazione di questo ponte sono almeno 5 anni. Un ottimismo che nasce dal fatto che il lavoro non è all'anno zero, fermo restando che il progetto dovrà rispettare i criteri di sostenibilità richiesti dall'Unione Europea. Si ripartirà dalle autorizzazioni già ottenute nel 2012 relative ai raccordi ferroviari e stradali. Rimetteremo in vita il piano per quell'opera aggiornandolo così da essere in grado di fare una cantierizzazione più veloce. In più 3,4 miliardi per rifare completamente la via ferrea, quella del treno tra Palermo e Catania, anche lì porterà un sacco di lavoro, anche lì ci saranno migliaia di posti di lavoro. Quindi c'è un aiuto al sud Italia per una sua ripresa economica non da poco, perché tra l'indotto, tra un'opera ciclopica come il ponte e una ferrovia intera da rifare completamente tra Palermo e Catania porterà un bello sviluppo economico per delle aree che, insomma, dove ti giri ti giri non vedi una fabbrica manco a pagarla. Bene, ora si tratta dunque di costruire e adeguare il progetto. Entro luglio dovrebbe arrivare la posa della prima pietra. Luglio del prossimo anno, quindi stiamo parlando di un anno e qualche mese dovrebbe esserci la posa della prima pietra. Bene, è anche la rinascita del progetto che aveva cominciato Silvio Berlusconi che dice questa volta non ci fermeremo. E un'altra promessa agli italiani che siamo finalmente in grado di mantenere. Ebbene, questo era legato al contratto con gli italiani firmato nel 2001 da Silvio Berlusconi da Bruno Vespa. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.